L'intento era quello di fare un'esperienza di formazione molto prossima a quello che potrebbe essere il lavoro in un set. Avete visto quante volte andavate fuori luce, è una cosa importante intanto prendere la consapevolezza che la luce è importante come la recitazione, come i movimenti della macchina della presa, quindi è molto molto importante. Allora diciamo che in Embreone l'esercitazione è consistita nel fare un'esperienza di formazione di recitazione e tecnica cinematografica Azione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!